L'Epistola di Paolo Apostolo ai Colossesi Capitolo 1 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, è il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi, avendo udito parlare della vostra fede in Cristo e dell'amore che avete per tutti i santi a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli. Speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo che è pervenuto sino a voi come sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo nel modo che fa pure tra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio che è fedele ministro di Cristo per voi e che ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello spirito. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udito, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi e rendendo grazie con allegrezza al Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primo genito d'ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli che è il principio, il primo genito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in Lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatta la pace mediante il sangue della croce di esso. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte di esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, seppure perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a pro del corpo di Lui che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto ministro, secondo l'ufficio datomi da Dio per voi, di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero, che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai santi di Lui, ai quali il Dio ha voluto fare conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero, fra i gentili, che è Cristo in voi speranza della gloria, il quale noi proclamiamo, ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine io mi affatico, combattendo secondo l'energia sua che opera in me con potenza. Capitolo 2 Poiché desidero che sappiate quale arduo combattimento io sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduto la mia faccia, affinché siano confortati nei loro cuori, essendo stretti insieme dall'amore, mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza, per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Questo io dico affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, pure sono con voi in ispirito, rallegrandomi e mirando il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come ve' stato insegnato e abbondando in azioni di grazie. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo di ogni principato e di ogni podestà. In Lui voi siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti. E voi, che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificati con Lui, avendoci perdonato tutti i falli, avendo cancellato l'atto accusatore scritto in precetti il quale ci era contrario, e quell'atto ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le podestà ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste o a noviluni o a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire. Ma il corpo è di Cristo. Nessuno a suo talento vi defraudi del vostro premio per via di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfiato di vanità dalla sua mente carnale, e non attenendosi al capo, dal quale tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme, per via delle giunture e articolazioni, prende l'accrescimento che viene da Dio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, cose tutte destinate a perire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quelle cose hanno, è vero, riputazione di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare la carne. Capitolo 3 Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cubidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste. Non mentite gli uni agli altri, giacché avete svestito l'uomo vecchio coi suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi nasprite contro a loro. Figliuoli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Padri, non irritate i vostri figliuoli affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore, poiché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali. Capitolo 4 Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Perseverate nella preghiera vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando in pari tempo anche per noi affinché il Dio ci apra una porta per la parola onde possiamo annunziare il mistero di Cristo a cagione del quale io mi trovo anche prigione e che io lo faccia conoscere parlandone come debbo. Conducetevi con saviezza verso quelli di fuori approfittando delle opportunità. Il vostro parlare sia sempre con grazia condito con sale per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Tutte le cose mie ve le farà sapere Tichico il caro fratello e fedele ministro e mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto per questo affinché sappiate lo Stato nostro ed Egli consoli i vostri cuori. E con Lui vi ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutte le cose di qua. Vi salutano Aristarco il mio compagno di prigione e Marco il cugino di Barnaba intorno al quale avete ricevuto degli ordini se viene da voi accoglietelo. E Gesù detto giusto i quali sono della circoncisione e fra questi sono i soli i miei collaboratori per il regno di Dio che mi siano stati di conforto. Epafra che è dei vostri e servo di Cristo Gesù vi saluta e gli lotta sempre per voi nelle sue preghiere affinché perfetti e pienamente accertati siate fermi in tutta la volontà di Dio poiché io gli rendo questa testimonianza che Egli si dà molta pena per voi e per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Luca il medico di letto e Dema vi salutano. Salutate i fratelli che sono in Laodicea e Ninfa e la chiesa che è in casa sua e quando questa epistola sarà stata letta fra voi fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e che anche voi leggiate quella che vi sarà mandata dall'Odicea e dite ad Archippo vada al ministerio che hai ricevuto nel Signore per adempierlo. Il saluto è di mia propria mano di me Paolo ricordatevi delle mie catene la grazia sia con voi. Grazie. 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 Grazie.